Uno stadio da 28.000 posti immerso nel verde. È il progetto del nuovo stadio di Bergamo presentato dal presidente atalantino Antonio Percassi e dal sindaco Franco Tentorio, che dovrebbe essere realizzato all'interno di un parco dello sport esteso su 620.000 metri quadrati alla periferia sud della città orobica, nel quartiere di Grumello. Il condizionale d'obbligo, visto che, come sottolineato dallo stesso Percassi, tutto è legato alla finanziabilità del progetto. Per realizzare lo stadio, insieme al Palasport e a un parco acquatico, servirebbero 250 milioni, tutti a carico dell'operatore privato, di cui fa parte anche la ditta di costruzioni cividini. In questo periodo è però difficile convincere le banche, ha aggiunto Percassi. Per questo i tempi di realizzazione sono imprevedibili, come ha sottolineato invece Tentorio. Il progetto che porterà alla realizzazione di uno stadio con posti a sedere e tutti coperti prevede anche un parco pubblico di 75.000 metri quadrati. Nella nuova casa dovrebbe trovare posto anche l'Albino Leffe, mentre il Palasport dovrebbe dare una sede più degna alla FOP Pedretti, costretta a giocare da anni in un impianto dalle condizioni discutibili.